Il risorto, per farsi riconoscere come risorto, non mostra le mani guarite, ma le mani ferite. Tutti noi pensiamo che la soluzione al nostro dolore è essere ristabiliti come eravamo prima, cioè superare le nostre ferite. Non ci accorgiamo che il segno più profondo della risurrezione sono le nostre ferite. Noi vorremmo liberarci dalle nostre ferite, ma non capiamo che sono proprio esse a farci fare l'esperienza della risurrezione. E questa è la rivoluzione cristiana. Si crede quando si comincia a scorgere la Pasqua in ciò che più ci ha fatto soffrire, non quando abbiamo trovato un modo per scappare dalla sofferenza che abbiamo vissuto. La Pasqua si trova in fondo a quei buchi, non in dei buchi chiusi. Noi vorremmo un Dio che risolvesse la nostra vita. Il nostro Dio invece ci porta a risignificare la nostra vita, cioè a riempirla di un nuovo significato a partire da quel dolore che abbiamo vissuto. Ora, se la Pasqua per essere riconosciuta, se Gesù risorto per essere riconosciuto mostra le proprie ferite, capite che per questo, per noi questo è il segno più evidente di come noi dovremmo trattare le ferite della nostra vita. Invece molto spesso la nostra lotta è proprio con le nostre ferite. Per anni e anni noi proviamo a liberarci dalle nostre ferite. Per anni e anni noi vorremmo risolvere le nostre inquietudini, quello che ci rende deboli, quello che ci fa sentire da soli. Per anni e anni noi cerchiamo di riempire i nostri vuoti. Noi vorremmo cancellare la nostra umanità. Ma Gesù Cristo invece ci insegna che soltanto quando ci lasciamo riconciliare con la nostra umanità, quando ci facciamo riconciliare con le nostre ferite, quando facciamo pace con la croce, allora, solo allora si manifesta la potenza della risurrezione.